Mi sono fatto due ballottaggi in una puntata e quello è stato bellissimo quel momento perché in realtà non dovrebbe essere bellissimo. Invece il primo ballottaggio l'ho superato contro Giordana, è uscita lei, mi dispiace tantissimo, però non ci siamo esibiti lì. Invece il secondo ballottaggio che ho fatto sempre nella stessa puntata, cioè paradossalmente ero contento di andarci perché portavo un cavallo di battaglia che mi piaceva molto e quindi dico se devo uscire però esco con questa canzone che era Follow Through di Gavin DeGrow e credo di aver lavorato bene e grazie anche a mio giudice Malika che mi ha veramente dato una grandissima mano. In un momento di difficoltà mi ha scritto una lettera e che io mi rileggo spesso questa lettera e mi ha fatto proprio bene e mi ha dato la forza per andare avanti sia questa cosa che anche anche quando è venuta mia sorella all'oft. Stavo in un momento di crisi profonda e è venuta lei e mi ha dato la forza per andare avanti quindi credo che poi sono riuscito a lavorare meglio, più sereno e quindi forse grazie a questo che sono qui adesso. Guarda io mi davo per spacciato al terzo quarto live quindi per me solo arrivare ai live è stato un grande risultato e quindi da lì poi ho preso tutto come veniva. In realtà io fuori non sono così, sono un tipo che si preoccupa molto ma arrivare fino a questo punto mi ha, cioè proprio arrivare anche ai live mi ha convinto a pensare che ormai dovevo prendere tutto così come veniva e quindi grazie a questo, forse grazie a questo sono andato avanti, cioè ho sempre cercavo di dare il massimo perché così comunque se dovevo uscire uscivo a testa alto. Sono sincero, ci sono sei diversi obiettivi prefissati in tutto questo percorso. Il primo era di arrivare in quinta ma in realtà io dicevo va bene proviamo, vediamo se ci arrivo bene, primo risultato, poi si alza sempre l'asticella. Dalla quinta arrivare in semifinale che per me era come fosse una finale perché io sono del parere la finale è una cosa a parte. Emozioni del forum saranno stare lì sopra su quel palco con Robbie Williams accanto e con la gente, con il pienone e sinceramente alla vittoria non ci sto pensando perché poi quella, cioè secondo me la vittoria è stata proprio arrivare a cantare sul forum, che non capiterà più, credo. Quindi è già questa una vittoria. Malika ha detto vedrete che lui andrà fuori dall'Italia, farà parlare di sé, ma tu ci vuoi andare fuori dall'Italia a fare musica, perché non puoi rimanere in Italia? Cosa vorresti dire a Malika se potessi in questo momento? Ma vorrei dirle che comunque io sono contento di avere una spalla come lei a mio fianco e potrò chiederle a lei ancora un consiglio sul da farsi dopo e magari andare all'estero cioè sarebbe bellissimo, però mi piacerebbe anche portare la mia musica in Italia.